È stata una sconfitta inspiegabile quanto pesante quella subita dal Padova nel derby. Una partita che ha visto svuotarsi lo stadio quando ancora mancava un quarto d'ora al termine dell'incontro. Qui sono seguite le contestazioni nell'immediato post-gara, i chiarimenti tra alcuni giocatori e tifosi all'indomani alla ripresa degli allenamenti, nonché le dichiarazioni del più che mai contestato presidente Diego Penocchio, ha perso più risoluto ad attendere gli eventi che a dare uno scossone forte all'ambiente, se non a parole. C'è una situazione che da un punto di vista sportivo si è cristallizzata, è detto senza panigirici, cioè allenatore, staff, squadra, sono il soggetto che oggi viene allenato, preparato per affrontare l'avversario nel migliore dei modi. I giocatori vanno in campo, devono interpretare la gara nel migliore dei modi per vincere la partita, non è che abbiamo tante cose in più o meno da fare e quello che stiamo facendo in questa direzione è al meglio, voglio sperare che anche i giocatori sentano il dovere, la responsabilità di rendere alla città, alla società, il ruolo che li compete. Ma è già ora di pensare alla prossima gara. Già domani le padovane di Serie B tornano in campo per il turno infrasettimanale. Il padova di Mister Serena ha quindi la possibilità di riscattarsi subito. Per farlo deve assolutamente vincere a Castellammare contro la Juve Stabia, fanalino di coda della classifica, ma non per questo formazione da sottovalutare. Viaggia invece sulle ali dell'entusiasmo e consapevole delle proprie possibilità il Cittadella. Reduciti a due vittorie consecutive ottenute con prestazioni convincenti, i Granata hanno l'opportunità di confermarsi nella sfida casalinga con il Brescia, che nelle ultime cinque partite non ha collezionato alcun punto, per di più non riuscendo a segnare una sola rete.